Per Piemonte, per l'Europa, Genda piana e genti bri, Summa l'erta, gisla piota, Cun ardor di Dianchi, Piemonte al dita d'amur, Caladane il creatur, Piemonte al dita d'amur, Si brandete il nostro lupo. Amici e amici, e telegrande, buon dia a tutti! Anche io continuiamo la nostra presentazione, diciamo per le storie tradizionali, le nostre persone, la montagna, che sono tante, 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 e ringraziamo del dottor Renato Lomberdo, che la qui inetante è con pazienza e tempo, esperienza e, diciamo, pura capacità, tirare fuori tutti quei libri, che sono per il resto scritti, per l'avni, per i nostri giù, se non per gli atleti, le storie, le storie vere, nemmeno storia, basta che sia, storia vera della nostra gente. Allora, car professore, car dottor, dìmme po', che hai parlato di cosa? Sempre nella Valgrana? Sì, insomma, che hai messo nella Valmaira, ma... Ma la vive... La vive una vita a Valgrana! La è della Valmaira, perché già quella è della roccia. Invece, siccome hai passato 40 anni a freddutore in Valgrana, lei aveva maniera di che hai diverse storie, e mi sono mai un cavallo, a cercare le storie, e tra le altre storie, hai... hai... ho trovato quello che hai detto, che è libero, che è il primo volume che vorrei fare in alto, e magari per ancora in alto, perché le storie che non hai, sono tante, perché ogni vita ha una storia, e tutte le storie vanno contare. Allora, contare tutte, spennare... Ma bimbi, che ti lo scrivi, tutte le storie che sono sulla Valgrana, devi essere altro che... è diventato un libero parei, ma insomma, perdi, almeno quei due, le cose che mi smigono un po' più interessanti che altre, hai su un piano il più così di scrivere. E se mi permette, un attimo, mentre io stavo in una città, ti le nemmeno che la smagdai una man, diciamo parei, come fisicamente, dalle persone che andavano a trevia, dicendo che magari, magari una volta se andavano proprio con le macchine fin di ciò, ti ci abbottavo, come si dicevano. E in questo tempo la scrivì, non che le restavano con la gente. Sì. Perché andavano a perrucare, e le vallate troppo, come l'aveva scritto dell'Aina là, quando toccheranno... I casei di villaggia. Ecco. Tombaremmo i casei di villaggia. Tombaremmo i casei di villaggia. Cadranno le casei di villaggia, aveva scritto parelli. E quindi, sai, l'è una fea importante. Sì, però mi ha salvato i casei, però mi ha salvato le storie. La storia. Almeno la memoria. Almeno quella. E quando mi, quando mi, vado da sé, quei volte vado ancora adesso, ma gli è più pochi di quei che sanno le storie. E i suoi più. E i suoi più. E la generazione finì. Quando mi vieno da quei due, allora mi vieno da sé, mi fai la mia parte. Certo. Allora, do this. Io ti do i miei consigli e tu mi racconti la tua storia. E di fatto, e quando ero nell'ambulatorio, che avevo il computer lì insieme alla scrivania, allora avevo sempre due programmi di earth. Da una, le cartelle cliniche, dove veniva la gente, la cartella del quelli che aveva davanti a me. dall'altro la avevo con la delle memorie. E quando la avevo finì la parte, diciamo, seria, la visita, era sempre sei minuti che qui mi contava quei cose. E la prima volta veniva a me, dopo lo sapevo già, veniva qua, senza una storia. Quel cosa sapevo che dovevo contendere, allora veniva a preparerlo. E quando venivo lì, mi scrivevo, quattro appunti veloci, perché poi c'è tanto tema, due o tre minuti dedicavo le cose lì che poi mi dicevo, ben domani io sviluppo poi. E difatti, quando sono andato in pensione, ho detto, vado in pensione abbastanza presto, 60 anni sono andato in pensione, ed allora, sono due anni e l'hai già fatto libero, mentre c'è un'altra. E che libero. Sì, mentre c'è un'altra. E cerco di dire giù più di roba che poi di tutte quelle cose che avevo arrivato da fare sempre libero, che l'hai qui nella mia vita. Perché mi rincresco e se si vado è perduto. Come l'hai scritta se c'è libero sì? Se c'è libero sì, l'hai scritta, se arretto la copertina. L'hai scritta l'uleso, l'hai scritta belle sì. L'hai scritta, ho sempre condiviso la passione che spinge molti, prima che non ci sia più nessuno a cui chiedere, a ricomporre le storie dei propri familiari e di tutte le persone del piccolo mondo nel quale sono vissuti, per consegnarli a quanti verranno dopo, mossi dall'insopprimibile esigenza di garantire un futuro al loro essere esistiti. Venta che insomma buong, a Guernet, queste storie per chi che avviene dopo noi altri. Perché sono storie che hanno tante cose da mostrare. Sulla copertina del Libre, del Cours Libre sì, l'habitante personaggio è molto più interessante che le Pierini, Pierini e la Cialancia. Pierini le stai attendo qui lì che raccontavano più delle storie. Le stai l'ultimo che deve abitare la Cialancia. Quando le calare Pierini la Cialancia la sarà. Adesso c'è ancora qualche seconda casa. La fumo del Pierini va ancora di stare con la figlia perché la Cialancia è un bel posto tutto al sud. Anche in vento si starà bene ma è un problema per una persona anziana. Le calali giuri tra le loro. la vedete la sincima attaccare le ocche. Pierini era un po' il custode, il guardiano della storia della Cialancia. Se c'è libero di Pierini ha voluto con te un aspetto in particolare. Ha voluto con te la storia, la storia, della castagna. Adesso vi faccio vedere un po' di immagini che sono qui liberi. La storia della castagna che Pierini racconta le fanno tutte le foto delle varie fasi del travai della castagna. Guarda sì. Allora siamo la fase in cui Pierini crea le castagne se vede bimbele sì Pierini che è lì con giacca crea le castagne poi nell'altra pagina quando le castagne si porta un tal secolo tal secolo l'essiccatoio dove si fa giù se che castagne bianche castagne bianche però diciamo parecola su per sì vediamo quando le castagne vengono piccare quando vengono battute sulla topa per gare la cosa e piste la castagna le fa una cosa tan semplice perché tipo non pica il sacco sulla topa patanua vengono che sia quei cose morbide sulla topa ma non troppo morbide perché quando la castagna le secca se vengono la playa vengono che il culo si è abbastanza deciso ma non fuori da rompillano in fiacchera rompillano tanti toc allora la castagna buttava la pelle del can del can su dal pelle curta e avevo capito che era la misura giusta per fare un bel travaglio quindi la pelle del can sulla topa la pelle virale in contraria e poi battivo tra due come si vede come si vede in te questa immagine si un da una parte e l'altra da l'altra ome fumna ome fumna piccao piccao se vede bello si quando picco e rompio la playa e dopo la fumna se vede in l'auto immagine col mundou col vang col vang la mondava per la fin quando ero secche che ero pulita e portavo sempre entro secco e faccio la cernita cioè cernio con le bune con le gramme e tutto aveva un nome allora i muraci i mole i peloi non aveva un barone di nome ogni difetto aveva il suo nome un'altra cosa che mi racconta Pierin una cosa interessante è quando l'ancala dalla cialancia fin giù alla strada provinciale un bion del castanier il castanier era un tempo che si dice le stabiace le stabiace vuol dire le grosse stabi però le stabi era papì era mappi un po' di pere intera e allora chi alle si ricorda quando l'ancalato il castanier era più o meno era più o meno nel 45 però verso Natale quindi era già finita la liberazione tutta la guerra e il padrone l'ha deciduto di vendere questa era una riviera la riviera è la castaniera la castaniera più grossa che era da lì e questa castaniera sì come mi diceva Pierin era grossa fuori misura quella l'antacca gli abitano le smanac per l'untera forse che era grossa un trouplou e poi prima hanno tagliato le reis con le stampa ah hanno proprio il tagliato sì sì hanno garbato l'hanno stampato poi con un trouplou più di due metri perché lui era quasi due metri allora lì dovevi e da se a quattro si gomma a Bracello difatti era tutti che la riviera che travagli che travagli l'antacca quando le bion le state in terra era poi finita le storie perché avventava il calello giù e a calem il bion parei che mi l'hai scritto dovevi ripesare ma pesava in esagerazione allora abbiamo il comando era un cugno con una cadena abbiamo il comando da re un cugno pianta da re e un cugno pianta davanti ma era che da da re lo tenivo e da davanti lo menavo lo menavo cercavo di fare insieme facendo parte la corda che aveva gruppato la cadena dentro il castagnè e pian pian la facendo scurrici poi passavano il castagnè e parellano ancora a fine in tal piano quando sono arrivato al piano hanno detto sono a posto ma erano qui da fare 200 metri ma era quasi in piano l'albion non è partito l'albion è partito se non andava per fortuna che era la fiocca alta arrivava alla fine prima perché era un albergo dal mulin scendosi avanti campava l'albergo le fermasse piantando la fiocca e mi fai meno male a fare i pierini lo mi scampò e il padron che l'havia venduto e quel che l'havia cattò gli hanno pagato un buon disney è proprio lì al mulin dove si era fermato la riviera dell'estabias in cui lì per sì mi ricorda tutti i proverbi che parlo delle castagne e tutte le maniere di che parlo delle castagne e sì è una bella foto della cialancia il pan di pover il pan di pover sì è una bella foto della cialancia dove si vede la cialancia per lì di base e la rocca d'alcaire che è la grossa montagna rocciosa che è la cima della montagna la cialancia è proprio lì pendua pendua tacca tacca questa pendenza sì è una bella foto di Pierin con la sabacca perché Pierin senza sabacca girava ne chi ha dissi cialancia senza sabacca e come andalo in massa senza greia e girava sempre con la sabacca e una volta era in maniera di è in maniera di che rendo bene l'idea allora un personaggio un personaggio che va al Pierin le peto di scaletta che sarebbe questo sì se vedi la foto Galiano Pietro di scaletta questo lì che è un'autopagina sì questo è Galiano Pietro dal 1924 le morte l'hanno passata è venuta e ha sempre contato le storie ha contato come il peto e ne erano poche ha contato la storia della sua famiglia da dove veniva lui veniva da Rilavacca da una borgata che è bella e mi contava quando andassi a pastura con un veioto dal post e il veioto dal post che si chiamava Noto Tattolini e contava le storie dice Noto Tattolini è il mio maestro contava le storie e mi mi arrambava chiede e scutavo e quando dice il ben che vuol dire preghiere quando dice il ben a Stabi non lo faccio per imparare perché Noto Tattolini lo dice pian pianetto e mi riuscioneva senti e mi mi genuiavo lì sulla paia rambacchiello e scutavo e allora noto Tattolini dice la preghiera Maria Maddalena che soffrisse tanta pena come tanti dolori della passione del Signore o Gidei poveri Gidei che va a fare i figli miei i lampià 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 ma i miei sono tutti morti noi pignin noi pignin dentro ma in cattini ricordi l'angelo va cantando la madonna vai sospirando il Signore che fa l'orazione che il che la sa che la dice ben che il che la sa che la dice nè alla fine del Gidei si troverà ben pentì l'orazione al ben vei che dice che dice no Tattolini e allora e allora dice mira imparà perché mi rubitava l'ingegno e scutavo e guardavo quando bugiava i laver delle volte imparavo più dal movimento di laver dalla bus perché la bus l'era piana ma mi l'ho imparata mi è buona memoria e l'ho tenuto a memoria poi c'è un'altra storia la storia dell'erba ciata la storia dell'erba ciata l'erba ciata è un'erba che cresce in tal modo dove c'è il naso dove c'è l'umidità e allora quando appunto andavamo pastura alle fie alle vere cosa capitava che tutti tra le spine e le pasture le tue secche però dove il terreno è un po' più molto un po' più umid l'erba si va da lunga e era una qualità d'erba che aveva visto che di prima che veniva in una mese a braccia ha detto se domani porto le vere ne fanno una buona tripà e mi pare in cinque minuti fanno fare la pastura e pare che la fai io portavo le bere bene lì e non andiamo e ho visto io ho buttato il naso bene lì di rente e poi sono andati via oh cristiani un'erba buona pare e hai detto chissà che dia dal mentre dal mentre il passo il passo la barba barba cichini che era la barba la mia mare barba cichini e passò da lì e mi diceva ma che diavo le bere mangiò neanche l'erba lì bella verde pare ma vedessi neanche le tue d'erba ciata e fa di niente perché vese finta sta bene con quei cose allora quando la barba cichini andai via e andai là di meno sgianchi un po' vedi come è finta a tirare per sgianchi l'erba si può sgianchi e sghiando le mani la tutta la maledetto si taglia per l'ora lasciamo l'erba ciotto la graffina è cominciata e pare che lì l'epeto l'ha imparata la lesione e mi dice ma come questa erba ciotta che la fa di niente ma di dove arriva con la sabacca drenta avevano due bocci di erba ciotta mi fai che piega e mette in me giardin in me giardin per le vese ancora l'erba ciotta che mi aveva portato a petto dopo avevamo raccontato le storie ma lui però non mi ricordo più me ogni erba sono e ogni posto è diverso si petto ma raccontato le storie che tagliava proprio taglia che dice la rubiola presenti ma è una altra storia era la storia con la rubiola la storia della rubiola mi racconta petto per una bella storia allora la rubiola le sdressa chi la sdressa chi la secuggia e tira taglia smen e contavo fin la storia la rubiola e il situr la situr sarebbe il falciatore allora la rubiola era lì qui capita un po' più là era il servin che era un'altra erba allora il servin gli fa rubiola rubiola arriva un situr si fresca come l'è oh l'è giù allora vintesani sale giù non buona martellè non buona mulè mi mi cuggero la se passè e pareli stai e la fa franca al di dopo il servin gli fa torna rubiola arriviola gli arriva un situr come l'è oh le le la barba bianca sale ve pin in buona mulè pin e c'era pin la martellè mi cuggero la se passè e la fa torna franca al di dopo gli arriva torna si tur rubiola rubiola rimane situr come l'è ma l'è l'immergni giù ne vai ai 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 martellè sutil mola sal fil mi paura rubiola mi tocca mi rire le pareli stai e petola cantava fin martellè sutil e mola sal fil mi paura rubiola me tu c'ho murire c'è qua fesce il salmo pensa una storia fin cantà una storia per nervo pensa che le storie che era una volta peto ma contà un barun delle storie andiamo avanti con libero ma contà ad esempio una cosa stranissima ma contà le storie denso re barba c'è un barba den barba barba de son onu che avea combattu a goito nel 1148 e racconta tutta le storie de caldi che aventa per imparare lesi le storie perché questi si ricorda ben quando l'hanno passato il punto de goito alla corsa e dopo sono passato ai bonghi piemontese a ferendi e la vittoria se sono fermato se pensi andai avanti carl'alberto avessi il coraggio e peto lo sa via co perché la via con i giocci liber se pensi andando avanti abbiamo liberato la lombardia che è lì invece se sono fermato radeschi avevano tutto il tempo di organizzare se le torna e gli dai le paste e quando gli dai le paste andavano scappasse tutti e che stanno la barba le finì una cascina con un out perché vantava cerchè scappé e quando stai bene lì drenta alla niente andermi lì stai in grosso temporale che il mincio le salta fuori dagli argini e la lagà tutte le stalle della cascina e lui andava in manca a tirare fuori le bestie i cavalli e le vacche e che ricordano di questo in particolare sì e quando sono arrivato qua dici che arrivavo da tutte le rio a c'è notizia di so che ero sotto le armi sa via che Castillo era arrivato qua sang e salvo ma se le arriva qua è andata finita male perché come dice chiede si li met goito i morti ne dritti si li met le spunde delle strade le spunde di camp forse che erano morti i morti erano dritti ma le non vè perché a goito stai ben pochi morti perché queste batalje si smia smia ma alla fine tanti ferite che vede che perdia si ritirava stai per grosse batalje ma nè a goito poi un'altra storia che abbiamo contato è la Crimea perché una barba combattò in Crimea e contava pare quando ero la l'uomo passato tre mar rifatti mediterraneo mar di marmara e mar nero e quando prima di sbarchè si ha detto allora fioi teni ben presente spari tutti i colpi ma tenino per voi perché se i turchi vengono vivi vengono i martiri supe poi ti racconta pare ma pare le storie perché i turchi erano con niente stavolta in misero il russo però siccome storicamente i turchi sono sempre dall'autopart allora Petro ha detto i turchi sono sempre dall'autopart poi è una bella storia che è del Chabutin la raccontiamo ancora veloce tutti i momenti andano cercando Chabutin Petro e suo frale e il frale per la pista sia la suca della pive che calava giù e la volta lì Petro arriva come tutti avete volte Tonin hai trovato bel Chabutin raccontare tutte le virtù del Chabutin e Tonin ha detto ma Petro più bello che bello si e finia sempre parelli noi finiamo con le nostre storie per anche e in un turno al puntel per un'altra volta la misa telegrande si è venuto a sentire un po' che è contento di quei cose noi siamo ben contenti meno ti devi scontare perché mi sono partendo a misa misa c'era sempre saluto e spero che studia l'erit coronavirus una volta la seixa per una volta santa pasma che bello e un teist che è un teo vive si brandet del nostro rum no Grazie a tutti.